La notizia e le foto pubblicate su Facebook due giorni fa su due pazienti curati a terra all'ospedale di Nola hanno scatenato, come era facile immaginare, un putiferio. Da un lato le parole del direttore sanitario e dei medici della struttura che hanno preferito curare le persone a terra piuttosto che non dare loro assistenza. Dall'altro la reazione del governatore De Luca che ha convocato tutti i responsabili delle ASR campane chiedendo di avviare immediatamente le procedure di licenziamento dei responsabili del pronto soccorso di Nola. In quel caso forse il direttore non ha fatto altro che mettere in campo una cosa di umanità enorme. Nel mezzo la decisione del ministro Lorenzin di inviare a Nola i carabinieri del NAS per controllare quanto accaduto. In seguito alle polemiche l'unione sindacale di base che danni denuncia il graduale smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, la conseguente riduzione massiccia dei livelli di assistenza e le chiusure di ospedali, ha organizzato presidi di protesta nei principali capologhi italiani, oltre che nell'ospedale incriminato. A Napoli si sono radunati sotto la sede della regione campane a Santa Lucia e la loro richiesta è molto forte. Vogliono la sospensione immediata dalle loro funzioni del ministro Lorenzin e del presidente De Luca in quanto responsabili diretti di quanto accaduto all'ospedale di Nola. Protestiamo perché quello che è successo all'ospedale di Nola non è un problema di emergenza, quella è l'emergenza quotidiana che avviene praticamente tutti i giorni negli ospedali, sia in Campania ma che sul piano nazionale. Poi ci sono gli eccessi dovuti a delle situazioni che si combinano, come è successo a Nola, 300 pazienti in una giornata, la neve a terra per cui praticamente era impossibile portare i pazienti altrove. Ma il problema vero è un altro, che si sono chiusi gli ospedali intorno a quella zona, come si stanno chiudendo gli ospedali qui a Napoli. E noi chiediamo chiaramente che venga fatta una politica di investimenti sulla sanità, perché il diritto alla salute è fondamentale. Noi riteniamo che sia fondamentale in questo momento reinvestire sulla sanità, riaprire ospedali, assumere i lavoratori, perché qui c'è una carenza di personale enorme e noi praticamente non potremmo mai avere dei risultati diversi da quello di Nola se non facciamo questa operazione.